voi credete che sia facile ma abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù egli pur essendo nella condizione di Dio non ritene un privilegio essere come Dio ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo diventando simile agli uomini dall'aspetto riconosciuto come uomo umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e una morte di croce per questo Dio lo esaltò e li donò che al di sopra di ogni nome perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli sulla terra e sotto terra e ogni lingua proclami questo nome allora quando io mi trovo qua cosa vuol dire credere nel suo nome credere che lui è il mio Chirios cioè colui che ha l'ultima parola su di me siamo già nella polemica con l'impero perché il Chirios era il Chirios Kaiser era l'imperatore e Cristiano dice tua nonna io riconosco l'imperatore come capo politico e sociale ma non come colui che ha l'ultima parola nella mia coscienza colui che ha l'ultima parola nella mia coscienza si chiama Gesù Cristo questo è il Chirios mio capite cosa sta dietro e adesso spiega i quali naturalmente sono figli di Dio non da sangue non da volere di carne né da volere di uomo a chi lo sta spiegando non certo agli ebrei perché gli ebrei non hanno i semi dèi che sono figli di una divinità e di un essere umano allora non da sangue non siamo figli di Dio perché siamo stati generati da Marte e da Rea Silvia mi spiego? neanche da volere umano vedi l'imperatore Domiziano io sono Dio e da volere di uomo ricordiamoci che a Pergamo avevano per la prima volta impiantato il culto dell'imperatore ma da Dio sono stati generati il battesimo se voi notate in questa glossa viene spiegato esattamente che cos'è la fede questa è una forma esegetico-catechistica che spiega questa parte del versetto 12 siamo alla fine del primo secolo per cui quando io leggo a Natale a Messa di Mezzogiorno un quarto questo testo che è il testo di Giovanni capitolo primo ripeto un testo formidabile io leggo tre generazioni cristiane leggo tre stadi della fede della Chiesa lo stadio iniziale più antico precedente gli anni 50 che sarebbe il lino all'ogos che trovate sulla colonna di sinistra questo questo è molto antico questo risale almeno all'epoca della fonte Q siamo nel 50 circa 48 52 sì ho capito non abbiamo la data esatta ma è prima dell'entrata dei battisti nella Chiesa poi abbiamo il momento fra virgolette apologetico in cui cioè i cristiani difendono la messianicità di Cristo nei confronti della pretesa della messianicità di Giovanni e poi abbiamo la forma catechistica della fine del primo secolo noi oggi abbiamo imparato parecchio adesso capite che io posso benissimo fare l'esegesi del testo senza trovarmi nella marmellata di più culture perché quando io lavoro su questo testo io lavoro nella cultura semitica i pagani non sono ancora entrati nella Chiesa o se sono entrati sono appena entrati perché i primi pagani che entrano in forma massiccia nella Chiesa li troviamo alla fine del primo viaggio di Paolo che si conclude prima del concilio di Gerusalemme il concilio di Gerusalemme orientativamente lo si colloca verso il 50 la fine del primo viaggio di Paolo è zona 49 ma questo testo c'era già allora quando io leggo questo testo lo devo leggere non con il criterio greco perché se lo leggo con il criterio greco il logos che io trovo qui lo devo mettere in relazione a Platone per cui mi diventa il demiurgo ma io non posso capire questo concetto di logos con il concetto platonico di demiurgo perché il demiurgo non si farà mai carne io invece devo leggere questo testo con il concetto che troviamo nel mondo biblico e logos greco nel mondo biblico traduce due vocaboli ebraici dabar e okma e allora Gesù chi è? è la parola di Dio ma è anche la sapienza di Dio questo si nasconde qui dietro ma io questa affermazione non la posso fare se non colloco questo testo nel suo nido corretto iniziale e il nido corretto iniziale è l'epoca in cui ancora la chiesa pagano cristiana non si era espressa perché era appena entrata e dunque devo leggere questo testo con i criteri ebraici mentre invece queste glosse esplicative le devo leggere con i concetti greci vi è chiaro? proseguendo sempre attraverso questo concetto di tipo ebraico mi diventa chiaro allora se lui è la parola e la sapienza di Dio è ovvio che tutto è stato fatto per mezzo di lui e senza di lui nulla è stato fatto di ciò che esiste perché perché il libro della Genesi dice Dio disse il mondo viene creato con la parola e dunque se io leggo il testo della Genesi ponendo la mia sedia nel Nuovo Testamento io posso dire in quel Dio disse era già adombrato la presenza del Verbo cioè della seconda persona della Trinità ma devo sedermi nel Nuovo Testamento per vedere questo nell'Antico se io mi siedo nell'Antico non posso dire Dio disse e l'anticipo della seconda persona della Trinità non posso dire lo Spirito di Dio leggiava sulle acque è un tipos dello Spirito Santo posso dirlo se il mio punto di vista è neotestamentario lo posso dire dopo capite quante cose è giusto tenere presente quando si legge questo testo d'altra parte voi mi potete chiedere ma Don Renato non è una presunzione da parte del cristianesimo leggere la Genesi per esempio con questa ottica due discepoli di Emmaus e versetto 27 cominciando da Mosè e da tutti i profeti spiego loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui il che vuol dire che nell'Antico Testamento ci sono tante cose che si riferiscono a lui perché Mosè è il Pentateuco i profeti sono i nostri libri storici e i libri profetici non lo ha fatto una volta sola Gesù alla sera i due di Emmaus arrivano trafelati a Gerusalemme abbiamo visto il Signore sia anche Pietro l'ha visto ti pareva mentre essi parlavano di queste cose noi l'abbiamo visto lui l'ha visto Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse pace a voi una FIFA blu sconvolti e pieni di paura provate a fare questo piccolo pensiero improvvisamente appare qui voglio vedere io se voi sorridete prima cosa che fate è lanciate un urlo perché è un qualche cosa che non appartiene alla quotidianità bene dopo che era pacificata dicendo non sono un fantasma perché mangia ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore disse avete qui qualcosa da mangiare un fantasma non mangia gli offrirono una porzione di pesce arrostito poi lo prese e lo mangiò davanti a loro poi disse sono queste le parole che io dissi quando era ancora con voi bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me legge di Mosè legge di Mosè nei profetti e anche nei salvi questa volta ha aggiunto anche i testi sapienziali provane sia che noi oggi preghiamo con i salvi ma non li preghiamo come li pregamano gli ebrei io non posso più pregare il salmo 22 per esempio dio mio dio mio perché mi hai abbandonato non lo posso più pregare come lo pregava un ebreo perché l'ebreo di fronte al salmo 22 pensa immediatamente a uno che è condannato a morte e che poi viene graziato io quando comincio a leggere dio mio dio mio perché mi hai abbandonato in automatico cosa penso che qui sta parlando Gesù Cristo e poi vado avanti e chi sono coloro che lo considerano verme non uomo chi sono questi tori numerosi io comincio a fare la trasposizione saranno scribi farisei sono sacerdoti capi dei giudei che lo ammazzano ma poi quando lui viene graziato e dice io vivrò per sempre e quando comincio a leggere è il salmista che parla a lui solo si prostreranno i quanto dormono sotto terra davanti a lui si curveranno i quanti discendono nella porvere ma io vivrò per lui di che cosa sta parlando della risurrezione ma capite che io faccio una lettura che non è più insieme all'ebreo che ha fatto il testo ma lo faccio prendendo le parole di Gesù che dice qui è scritto di me e allora faccio il trasloco del significato se voi riuscite a ricordare metà delle cose che abbiamo detto stamattina la Bibbia la vedrete frizzare sotto i vostri occhi quando la leggete mentre invece se la leggete come la leggevate prima una pinza da digestivo un blocco nello stomaco che non finisce altro se invece cominciate ad avere la pazienza di fare questi tipi di osservazioni il testo vi dirà delle cose infinite sia a livello storico sia a livello teologico sia a livello spirituale buon Natale ci vediamo la seconda domenica di gennaio che che Grazie.